In questo numero, correndo con le lumache, tre giovani imprenditori si inventano il successo e creano un allevamento di chiocciole. Dopo le difficoltà iniziali, ora l'azienda vola e nel suo settore è la più estesa d'Italia. Musica Hanno le corna però non ci vedono bene, scappano solo se le tocchiamo. Sono molto sensibili al tatto. Vita da lumaca. Vita da lumaca, una bella vita da lumaca. La lumaca dorme e mangia, la vita che vorremmo fare tutti e poi si accoppia. I profitti sono stati lenti ad arrivare a passo di lumaca, manco a dirlo. Adesso l'idea ha prodotto i suoi frutti e piace a tal punto che con velocità incuriosisce e fa gola a molti a levare chiocciole. L'idea è nata da mio fratello Michele, che siccome noi due eravamo in agricoltura e quindi lui ha fatto un corso in agricoltura e ci abbiamo voluto provare tutte e tre e diciamo siamo arrivati fino a oggi con l'allevamento delle lumache. Come tutte le idee che funzionano è nata per caso. Adesso è realtà qui nelle campagne di Campo Felice di Roccella, nel cuore delle Madonie. Davide Merlino, Michele e Giuseppe Sansone, tutti trentenni con grandi ambizioni, hanno investito coraggio e intrapendenza mettendo in piedi in otto anni l'azienda del settore più estesa d'Italia. È un'attività che rende, però se va fatta con passione tutto questo. È un'alternativa all'agricoltura che c'è qui in zona perché qui si coltiva soprattutto agrumeti e classichi ortaggi come carciofi e cavoli. Quindi noi abbiamo cercato di fare qualcosa di alternativo, quindi abbiamo cercato di crearci un lavoro che adesso, oggi come oggi, va tanto. In questa zona del Palermitano fallimenti e successi imprenditoriali quasi si incrociano. A pochi chilometri c'è la ferita aperta della Fiat. Questa, dicono con orgoglio, i tre giovani imprenditori. È una lumaca che lascia invece la scia di un trend promettente. I prezzi anche quelli sono molto variabili perché andiamo dalle 4,50 euro, 5 euro al chilo all'ingrosso fino alle 10, 12, 14 euro al privato. Quindi in mezzo ci sono i mercati, i rivenditori, i ristoratori, quindi 6, 7, 8, 9 euro. È molto variabile. Poi dipende un po' dal cliente, dalla quantità che ti richiede mensilmente. Un prodotto di nicchia che sta conquistando sempre più estimatori e mercati esteri. È bastato un incrocio tra il tradizionale escargo francese, buono ma fragile, con quello siciliano, più forte e resistente. La lumaca ha delle caratteristiche organolette molto particolari perché tanto è un alimento dietetico, perché ha proteine, vitamine, non ha grassi. Quindi è un alimento molto buono a livello dietetico. L'iniziativa consente di rendere produttivi i terreni spesso incolti, serve però molta acqua. 15 le tonnellate di invertebrati prodotte ogni anno. Nei periodi invernali i moluschi vanno in letargo. L'allevamento deve quindi essere sospeso per ricominciare soltanto in primavera. Si fa prima l'aratura del terreno, poi la semina e poi quando l'erbetta è già alta intorno ai 10-15 centimetri si mettono in riproduttore. Dopo un mesetto, 40 giorni, si accoppieranno e quindi nasceranno poi tutte le domachine. Il consumatore come fare per capire che intanto è un prodotto che dal punto di vista qualitativo è eccellente? Le che facciamo noi sono abbastanza, sono molto chiare. O si dicono che è la maxima, quindi è un pochettino diversa. Ma la spersa madonita ha la carne che è appunto molto chiara, molto robusta come guscio e poi ha dei colori che sono appunto fantastici. E rispetto alle lumache che arrivano dall'estero, soprattutto quelle raccolte in natura, sono completamente diverse. Perché quelle raccolte in natura per arrivare a queste dimensioni devono passare almeno 3-4 anni. Quindi è una lumaca in giutto vecchia, una lumaca dura, perché dopo 3-4 anni una lumaca diventa dura anche da essere mangiata. Mentre quelle che alleviamo noi sono lumache che sono al primo accoppiamento, quindi sono lumache che hanno 6 mesi di vita e sono appunto tenerissime. La domanda è in forte espansione, per questo la premiata ditta madonita sta pensando di vendere il know-how e dedicarsi alla progettazione di nuovi impianti per conto di altri soggetti interessati. C'è chi fa il reddito con la manna, chi lo fa con i pistacchi, chi col miele, chi con gli agriasili, chi col mercato. Questo dimostra che di agricoltura si può vivere, si possono riavere giovani con le proprie intelligenze ad occuparsi di agricoltura e con questo fare il reddito in controtendenza a quanto si pensi che è l'agricoltura oggi. Oggi l'agricoltura dà occupazione, tiene e mantiene ed è attrattiva, cattivante per i giovani che hanno voglia di investire. Il bilancio è abbastanza importante perché ad oggi, dopo questi anni di esperienza, la grande rete commerciale che siamo riusciti a creare anche a livello estero, riusciamo a fatturare intorno alle 180-200 mila euro l'anno. E' proverbiare lento come una lumaca, ma possiamo anche un po' sfatare questo luogo comune? Sicuramente, perché le lumache sembrano lente, ma non lo sono. Perché noi sono otto anni che corriamo dietro alle lumache, per esempio.